Proprio adesso, le cose non sono come erano. Proprio adesso, l'inganno è ancora vivo ed in buona salute. Proprio adesso sta succedendo qualcosa di grandioso. Proprio adesso, possiamo dire a chiunque di fare ricerche con Google o YouTube sulle bollicine nello spazio della NASA. Proprio adesso, la gravità è semplicemente densità. Proprio adesso, è impossibile filmare le scie delle stelle che formano una spirale perfetta attorno alla stella polare, a meno che non ti trovi al polo nord, secondo il modello aliocentrico. Proprio adesso, l'acqua trova sempre il proprio livello, senza eccezioni. Proprio adesso, non si riesce a trovare una singola immagine di un satellite in orbita, che non sia una immagine grafica computerizzata. Proprio adesso, ci sono troppe rotte aeree che non hanno alcun senso, zero. Proprio adesso, persone vere, con esperimenti veri per una scienza vera. Proprio adesso, sono disponibili grandi occupazioni per attori scadenti. Proprio adesso, l'orizzonte si trova a livello dei vostri occhi e non importa a che altezza andate. Proprio adesso, la scienza tradizionale afferma che possiamo vedere la curvatura della Terra da un'altezza di 9.000 metri. Altezza? 38.000 metri! Proprio adesso, ci sono persone che rischiano la loro reputazione e che parlano, mentre altri non lo fanno. Proprio adesso, le persone vengono continuamente prese in giro. Proprio adesso, chissà perché stiamo vedendo le stesse stelle e costellazioni che sono state viste dagli antichi egizi. Proprio adesso, i giroscopi non subiscono precessione come dovrebbero fare se fossero su una Terra sferica rotante. Proprio adesso, la scienza ci dice che siamo a milioni di chilometri più vicini al Sole durante l'inverno. Proprio adesso, la scienza ci dice che siamo a milioni di chilometri più lontani dal Sole durante l'estate. Sì, avete sentito e letto correttamente. Proprio adesso, la nostra atmosfera gassosa si presume sia attigua al vuoto infinito dello spazio. Cerchiamo di capirlo per un secondo. Proprio adesso, la matematica è il problema. E è uguale mc al quadrato. Proprio adesso, la matematica è la soluzione. Curvatura della Terra uguale distanza in chilometri al quadrato per 7,85 centimetri. Proprio adesso, ogni giorno, le persone istruiscono loro stesse e distruiscono altri. E funziona! Proprio adesso, sempre più persone guardano le stelle in alto con una nuova valutazione. Proprio adesso, la Nikon deve alla Terra piana una verifica. Proprio adesso, le lenti ad occhio di pesce della Terra Globo sono delle autentiche bufale. Proprio adesso, le persone dovrebbero cercare perché alla NASA non usano più le parole fotografie o foto. Proprio adesso, probabilmente si sono resi conto che i loro giorni sono contati. Proprio adesso, possiamo presentare con calma i nostri bambini altre opzioni. Proprio adesso, logica, motivazione e coraggio vincono. Fate le ricerche sulla Terra piatta. Proprio adesso. Proprio adesso, Proprio adesso,